Mia, facciamo vedere qual è il workout di oggi? Glielo diciamo? Ma allora, si siamo convinte, abbiamo pensato a un piccolo workout per tutti gli italiani che sono in casa come noi e questo è quello che vi proponiamo Allora, 5 intervalli di lavoro, 2 minuti lavorate e 2 riposate Che cosa facciamo all'interno di 2 minuti? 10 burpees touch, se in casa avete uno stipite di una porta va benissimo altrimenti potete scegliere un punto sul muro alto da toccare quando risalite dal burpees e ne fate 10 Sempre all'interno di 2 minuti di lavoro farete 20 jumping lunges, quindi affondi, saltando, scambiando le gambe sul posto Nel tempo rimanente dei 2 minuti andremo a fare massime ripetizioni di push up ginnastici Questo è un workout adatto a tutti, quindi crossfitter avanzati e chi ha le prime armi Per tutti i beast possiamo dare un piccolo spunto un po' pepato per lo stesso workout Che cosa potete fare? Se avete un manubrio a casa, gli affondi li fate con il manubrio appoggiato sul petto E a posto del push up finali potete fare degli handstand push up al muro Vediamo se Mia è d'accordo Mia, Mia, sei d'accordo? Tu fai gli handstand push up o fai push up? Ah sì? Mmm Mmm Mh, mh.